Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi parliamo di sicurezza, una sicurezza di cui nessuno parla, ovvero di una sicurezza automatica. Voglio dire una sicurezza che anche tutte le cose che tu puoi fare in una casa di sicurezza, se non ti ricordi di chiudere la chiave, di mettere catenacci, è una sicurezza che non serve a niente. È quasi uguale a un infisso normale, una porta blindata che chiude solamente lo scrocchettino, quello che apri con la maniglia, non ha sicurezza, è quasi come una porta interna, basta una schedina e si entra dentro, come fanno i pompieri quando ti dimentichi le chiavi. Quindi sicurezza automatica che cosa vuol dire? Porta d'ingresso, serrature automatiche, ne esistono di tipi meccanici e di tipi motorizzati. Quelle meccaniche hanno delle molle, praticamente, che quando tu le vai a chiudere, scattano le serrature e mandano in chiusura la serratura. Quelle automatiche, invece, la serratura è motorizzata, quindi si chiudono grazie alla forza del motore, solitamente alimentate le batterie, in modo che funzionino anche quando va via la corrente. E poi ne esistono anche quelle automatiche motorizzate e collegate alla domotica, in modo che tu puoi essere anche a New York, guardare nel tuo telefono e vedere se la tua porta è aperta o chiusa. Questo discorso vale anche per gli infissi e le chiusure oscuranti. Ad esempio, se ti facciamo degli infissi con delle chiusure simplici smart motorizzate, dove tu vedi un infisso normale, non noti motore, non noti niente, ma lui è completamente motorizzato e lo possiamo fare anche blindato in classe 2, quell'infisso, tutte le volte che tu lo chiudi, appoggi l'infisso, tutte le chiusure andranno in posizione di massima sicurezza. Non può succedere che tu appoggi un infisso e lui rimane così, magari socchiuso, e tu metti l'antifurto, sei convinto di essere in sicurezza e invece in sicurezza non sei. Poi, stessa cosa per le chiusure oscuranti esterne. Se facciamo delle chiusure esterne, quelle che adesso stanno piacendo molto, a serranda ma con l'effetto frangisole che lascia passare la luce tra una stecca e l'altra, si possono dotare di dei sistemi automatici che una volta che chiudi tutto scattolo dei meccanismi di blocco sia nel motore sia nella meccanica che rendono impossibile tirare sulla tapparella, cosa che invece ad esempio non puoi fare con una persona blindata, perché quando chiudi la persona blindata, come anche quando chiudi l'inferiata, o chiudi la chiave con la serratura e mi raccomando togliere la chiave e metterla lontano dal manufatto, o non si ha nessuna sicurezza. Quindi, sicurezza automatica, ora sai che cos'è, mi raccomando, non le vivere più senza. Ciao e al prossimo video!